Pedretti, quindi con questi tagli cosa si prospetta ora per la comunità montana e la Valle Seriana? Devo dire che onestamente non pensavo di riuscire a programmare il 2013, il bilancio di previsione, fino a una settimana fa. Fortunatamente dal cilindro della regione sono uscite altre risorse inaspettate, degli avanzi, dei residui, dal tesoretto. Le chiamate come volete, 97 mila euro in conto corrente ci consentono di programmare tranquillamente il 2012 e 2013 per quanto riguarda proprio il personale, che era la parte più pesante in quanto i tagli di questi anni hanno ridotto all'osso, da 2 milioni e 4 a 600 mila euro. È facile capire che possono stare in piedi due strutture e 26-27 persone. A suo tempo avevamo portato conoscenza della difficoltà e dell'opportunità di trasferirsi in parte presso lo STERES previo colloquio. Non è andato a buon fine tutto come si vorrebbe, ma ci sono ancora buone possibilità che questo vada a buon fine. Alcuni dipendenti, li ringrazio, hanno accettato l'idea di mettersi in gioco, hanno ottenuto soddisfazione. Tre di questi andranno, uno nel comune di Rovetta, uno nel comune di Ranica, uno è già andato al parco, per cui grazie a questi trasferimenti possiamo riequilibrare i bilanci. Naturalmente non è una felicità la nostra perché perdere professionalità è sempre antipatico, soprattutto controproducente per la struttura stessa. Purtroppo in una situazione in cui giorno dopo giorno si vedono situazioni di taglia e di taglia e incertezze, devo dire che la Regione ha creduto ancora di darci una mano. Mi auguro solo che il futuro sia ancora della montagna. Mi auguro soprattutto che chi andrà a governare a breve dopo Formigoni si ricordi che il 43% del territorio lombardo e montano e che un assessore alla montagna sicuramente non stonerebbe nel quadro generale, soprattutto alla luce delle necessità che ha la montagna, che è una risorsa sebbene utilizzata e non una difficoltà o un impiccio. Ecco, ha parlato del 2013, ma guardiamo oltre. Per il 2014 a seguire ci sono certezze? Finora certezze nessuno ne ha perché come ben sapete si parla tanto di unioni di servizi, di cancellazioni di comuni, stravolgimento, unioni e fusioni di province. C'è una situazione talmente caotica che onestamente mi sembra paradossale poter programmare un futuro con certezza. Sta di fatto che troppe cose e cambiate così velocemente sicuramente non sono un riferimento ben preciso per chi in questo momento amministra e non sono né una certezza. In un momento in cui viene a mancare il lavoro, vengono a mancare prospettive, anche se chi amministra non ha una valida progettazione non può andare molto lontano e per progettare servono risorse. E le risorse, visto che noi siamo un ente di secondo livello, ci vengono dati o da comuni o dalla regione.